Prova ad attivare il suo playmaker canadese, poi Magnon si butta dentro, Arcobaleno per evitare l'intervento difensivo di Biliga, ha la donna di energia di riuscire a prendere una forma all'interno del proprio roster, dovendo ogni volta soprattutto cambiare le varie responsabilità. Andiamo a rivedere il replay, l'uscita di Gay Brown. Viene fermato da Biliga, 7 secondi per andare al tiro, qualche difficoltà nel maneggiare il pallone, Allan, step back, tiro da tre punti, va a segnare lo scarico nell'angolo, McDermott contro Hub che riesce a obbligarlo a continuare a palleggiare, poi McDermott, il pallone va a entrare, uscita da Butler University, giocatore classe Spencer, poi Moretti si alza da tre punti, questa volta fuori misura il rimbalzo di Spencer, di nuovo per Brown, alza per Skylar Spencer che va a schiacciare nel compagno di squadra di Davide Moretti a Texas Tech University, mentre Spencer va a schiacciare ancora, dicevo, a Texas Tech University. I conti con la fortuna sono stati subito regolati per Prentissab, Spencer tocca e chiude l'arcobaleno di Nick Julis, Baldwin decide di fare da solo, ma c'era una prateria per il tiro da tre punti di Greg Julis, Bagnon, McDermott da tre punti, non ci pensa due volte, contro Baldwin, prova ancora da attaccare, c'è spazio per McDermott da otto metri, Sean McDermott, sette punti, quattro su cinque da tre, serata magica per l'Ala Varesina. E più uno di nuovo Dolomiti Energia. Magnon dentro per Spencer, che questa volta non schiaccia, meno uno per Dolomiti Energia. Sesto asto di Hub, sesto assist di Hub e poi dall'altra parte risponde Skylar Spencer. Molto concreta, ecco qui Allan e la schiacciata di Spencer, 14 punti. Il blocco di Ulaneo, Magnon esce dai blocchi, McDermott, situazione identica prima dall'Ala opposta. Baldwin più tre per Trento, ancora Baldwin, alza una perla, il rimbalzo di Cook, poi sotto canestro Skylar Spencer, ancora Muni, nuova azione per Trento. Dieci secondi per andare al tiro, la palla interna per Udom, Spencer! Alza il muro! Per Kamarvold, vediamo Bilasjeski che cosa fa con Allan nel frattempo.